Amici sportivi, a passerati di Palamano ben ritrovato il nuovo appuntamento con Handball Mania. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao a tutti. Ciao a Matteo. Una trasmissione che vivrà di due momenti. Da una parte il campionato Serie A Beretta Maschile che ha disputato proprio nella giornata di ieri un turno probabilmente non decisivo ma molto importante per gli equilibri generali soprattutto in vetta e poi nella seconda parte invece soffermeremo la nostra attenzione sulla nazionale femminile che di recente ha strappato in Austria un'importante qualificazione ai playoff per l'accesso ai mondiali. Parleremo di questo. C'è anche un campionato europeo che attende la formazione allenata dall'Irani di Maci ma insomma approfondiremo tutto questo nella seconda parte. Intanto partiamo dalla Serie A Beretta dunque partiamo dall'attualità Serie A Beretta che ha vissuto ieri Matteo un turno diciamo molto importante. Vero è che il Conversano ha osservato un gioco forza un turno di riposo forzato per i problemi legati alla possibilità di molti giocatori dell'Acqua e Sapone Junior Fasano ma è altrettanto vero che il Sassari ha sciupato l'ennesima occasione per ridurre un po' il distacco. Un'occasione fondamentale. Diciamo che in questo il Cassano Magnaco è stato un po' il crocevia per tutte e due le squadre perché la settimana prima il Conversano era riuscito a vincere in casa seppur faticando ma Cassano è una squadra attrezzata e ieri invece il Cassano Magnaco ha strappato i due punti proprio al Sassari. I due punti sono un'opportunità sprecata anche perché Sassari veniva da cinque settimane di lavoro con il neo allenatore Maggiserra, allenatore spagnolo, aveva avuto modo in qualche modo di metabolizzare se vogliamo l'amarezza della Coppa Italia e invece è un'amarezza che raddoppia a questo punto perché con sette punti, è vero che entrambe dovranno recuperare una partita però con sette punti che in un campionato con due punti per partita sono due partite e mezzo all'incirca è difficile da recuperare. Poi occhio in coda perché la classifica continua ad evolversi anche complice il fatto che c'è chi in questo momento gioca per i due punti con una verba maggiore magari rispetto a chi sta nel cuore della Cassini. Assolutamente, questi poi sono un po' i pregi, i difetti di un campionato che quest'anno come ben sappiamo non prevede la post-season sia in testa che in coda e dunque le partite, le giornate, i punti acquisiti e i conquistati durante la regolarsi sono vangono veramente tantissimi. Io direi però di fare un po' il punto, vedere il servizio e poi approfondire alcuni discorsi relativi proprio alla Serie A Beretta Maschile. La Raimond Sassari spreca con Versano sorride anche senza giocare mentre più dietro la banca popolare Fondi respira. Nel mezzo ci si ruba punti a vicenda ma senza troppi scossoni. Il turno infrasettimanale della Serie A Beretta Maschile, ventunesimo, giornata stagionale andata in scena ieri coincide con la pesante sconfitta della compagine sassarese sul campo del Cassano Magnago. All'esordio del tecnico spagnolo Maggis Serra e gli isolani cadono al palataca certamente campo ostico ma dove era fondamentale uscire con l'intera posta in palio per mettere pressione a Conversano e invece no. E invece nell'inedito campionato senza playoff i rosso-blu Sardi rincorrono per tutta la partita in Lombardia vanno a riposo sotto 12-11, impattano in un paio di occasioni ma alla fine cedono. Conversano mantiene peraltro con la partita contro Fasano da recuperare i 7 punti di margine. Se Sassari dovesse mancare l'appuntamento di sabato contro Cingoli allora al 90% bye bye Scudetto. Vedremo. Seconda vittoria consecutiva intanto in trasferta per la Banca Popolare Fondi che fa sua la posta in palio anche nei 60 minuti di Borgo San Lorenzo per l'occasione casa della Ego Siena. Finisce 29-23 dopo aver chiuso sull'11-11 la prima metà di partita. I laziali hanno un altro match point da sfruttare al massimo. Sabato arriva una salumificio Riva Molteno lanciatissima dopo il punto strappato sabato scorso contro Bolzano. Insomma esclusione di colpi nessuna. Punti in palio pesanti quanto un basso di granito. Almeno quanto peraltro i punti in palio nella gara tra Team Network Albatro ed Ego Siena. Per motivi diversi d'orgoglio per i toscani che salutato Marrocchi hanno trovato solo sconfitte e amarezza negli ultimi 120 minuti. Motivi di ovvia classifica per gli aretusei in piena corsa a salvezza. Sabato poi c'è conversano Pressano. Ai pugliesi non servono altre motivazioni se non archivare prima possibile giunti a questo punto il discorso Scudetto. Pressano ha vinto bene contro Trieste e non vuole fermarsi. Completa il programma Trieste, Cassano Magnago, Fasano e Appiano. A proposito, occhio agli autotesini nella lotta per non retrocedere. Recuperano invece il prossimo primo maggio. Allora prima di esaminare nel complesso la situazione classifica generale e poi verificare un po' cosa accadrà nel prossimo fine settimana. Direi di ritornare ancora sulla big match di ieri. Cassano Sassari, diciamo Cassano un po' arbitro di questo confronto avendo affrontato il commerciano nello scorso weekend e appunto ieri Sassari. L'amarezza registrata al termine non nascosta da parte del massimo dirigente Giorgio, perché hanno percepito tutti che quella ieri di Cassano è stata una sconfitta pesantissima. Sì, perché come detto i punti sono diversi adesso da recuperare, ma soprattutto Conversano non dà mai l'impressione di perdere il passo, di aver perso il ritmo. Praticamente ha sempre vinto, tranne la partita contro Cassano Magnago in campionato, tra Coppa Italia, Campionato Supercoppa ha vinto sempre, quindi è difficile adesso. E ora ascoltiamo. Faccio i complimenti al Sassari, hanno disputato una buona partita, ma faccio veramente i complimenti alla mia squadra, perché oggi eravamo contati e abbiamo gestito bene le energie. Non abbiamo visto un Cassano spumeggiante in seconda fase proprio per questo motivo, ma siamo stati bravi a gestire certi momenti della gara e meritatamente dal mio punto di vista abbiamo portato a casa la vittoria. Diciamo che anche forse il Cassano era la peggior squadra da poter incontrare dopo cinque settimane di pausa, perché si conoscono a memoria e noi invece, ovviamente oggi per noi era la partita a zero, perché il cambio all'allenatore, però sono emersi i problemi di prima. Non ho visto sinceramente un grosso passo avanti, devo essere sincero. Ricorsa al Conversano per me, sì, ci proveremo fino alla fine, ma se vogliamo essere realisti, sappiamo che il campionato per quanto riguarda il primo posto, non mi nascondo a dirlo, sono sempre stato abbastanza sincero e realista, è assolutamente finito. Il realismo di Andrea Giordo al tema della partita persa dalla Raimon Sassari alla pallatacca contro il Cassano Magnago e se, forse, perché poi mancano ancora tante partite, e questa è una stagione sempre da prendere con le pinze per tutte le incognite che nasconde legate soprattutto alla pandemia, ma se, diciamo sì, la lotta al vertice sembra in qualche modo già indirizzata con il Conversano che guida con passo sicuro la classifica generale, la vediamo, è in coda Matteo che veramente, insomma, sta succedendo di tutto perché nessuno molla, per fortuna, e tutte ambiscono, insomma, guadagnare una salvezza di fondamentale importanza. Ricordiamo che quest'anno sono in tre a retrocedere, una in più rispetto a quello che è il numero, già così, normale del massimo campionato. Sì, per ripareggiare poi le 14 squadre del prossimo anno perché ne saliranno due invece dal campionato di Serie 2, sì, lì è tutto piuttosto appiccicato anche perché stanno continuando a fare punti in maniera abbastanza costante le squadre della bassa classifica, le squadre che lottano per non retrocedere, l'unica che non fa punti è che deve iniziare a preoccuparsi seriamente a piano perché a piano perde da un bel po' e adesso il gap si è davvero ridotto tantissimo, ormai il Fondi è arrivato lì a 12 punti, uno in meno, la zona retrocessione è ad appena due punti e ricordiamo è un campionato ancora lungo perché si giocherà fino al 2 giugno e tutti sono in ballo fino al 2 giugno e quindi c'è da considerare anche questo aspetto, con molti recuperi, con molte gare infrasettimanali, la tenuta mentale, la tenuta fisica è un campionato che in coda soprattutto riserverà molte sorprese qui alla fine, vediamo il prossimo turno perché tu già preannunciavi, sempre rimanendo nella parte bassa della classifica c'è un confronto tra il Fondi, l'HC Fondi che è radice da due successi importantissimi, raccolti su due campi normalmente ostici come Trieste e Siena Fondi che ospita il Molteno ed è anche singolare il fatto che Salvatore Onelli, guida e allenatore della formazione lombarda ritorni in un palazzetto che conosce bene e che ha frequentato da avversario nei derby infogati con il Gaeta Esattamente, non solo, ha giocato anche per un buon passaggio con il Fondi, quindi è stata casa sua a tutti gli effetti è stata casa sua perché quel palazzetto è stato anche casa del Gaeta nelle ultime stagioni e ora proverà a fare putti in qualche modo assolutamente, soprattutto provando a sfruttare questa scia positiva perché Molteno ha strappato un punto con Bolzano che è vero che non sta vivendo un grande momento di forma ma è altrettanto vero che non era assolutamente scontato C'è Albatro Siena, Siena non sta bene, invece Siracusa ancora ha la grande berve di chi deve salvarsi quindi è una partita tutt'altro che scontata pure quella Merano-Bolzano, derby, Trieste-Cassano-Magnago, Conversano-Pressano anche questa non è una partita scontata, Conversano ha tutti i favori del pronostico Però Pressano ha orgoglio, Fusina è una squadra che non va mai lì per perdere e poi tra l'altro Fusina è anche un ex, quindi a Conversano ci terrà a fare bella figura Insomma sarà un fine settimana molto importante, l'ennesimo che vivremo tutti quanti insieme ricordiamo, poi lo faremo nel dettaglio, nella coda del nostro appuntamento settimanale che tutte le partite saranno visibili su 11sport.it Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ritorneremo per dedicare giusto, doveroso spazio alla nazionale femminile che ha fatto insomma trepidare tutti ma alla fine anche gioire in occasione del doppio confronto di qualificazione in Austria e il campionato di Serie A, Beretta, femminile che riprende dopo la sosta azzurra Al prossimo episodio Champions League Matteo, no? Questo è lo spot introduttivo Si torna in campo il prossimo fine settimana e si torna soprattutto su Sky Sport con l'andata degli ottavi di finale, noi seguiamo insieme, lo stiamo vedendo in grafica la partita tra il Pik Zeged ed il Kiel, il Kiel è la squadra detentrice del titolo mercoledì 31 marzo alle 18.45 diretta su Sky Sport Arena Restiamo in questo ambito territorio internazionale per dare il giusto risalto al successo ottenuto dall'Italia in Austria, battoria contro il Kosovo, sconfitta in dolore contro l'Austria un successo molto importante e molto atteso da tutto il movimento, non soltanto dalla parte femminile Assolutamente, dobbiamo secondo me dare tributo a queste ragazze perché vincere quando serve e questo era uno snodo fondamentale per il movimento femminile italiano è una dote e noi ci siamo riusciti, l'Italia c'è riuscita era una partita, si tornava in campo in una partita internazionale dopo 538 giorni alcune ragazze addirittura avevano giocato le qualificazioni precedenti non avevano neanche giocato quella partita contro l'Ungheria quindi ritrovarsi, cambio di guida tecnica, non era facile questa partita il Kosovo è una nazionale che comunque è al nostro livello ce l'ha dimostrato anche nelle amichevoli precedenti quindi ripeto, dobbiamo dare una dimensione corretta a questa vittoria ed era fondamentale ottenerla Obiettivo centrato, l'Italia giocherà contro l'Ungheria i playoff di qualificazione ai mondiali di Spagna 2021 ad aprile e Maria Enzerdov in Austria ha regalato alle azzure un weekend dolce come non se ne vedevano da un po' un passaggio del turno che mancava dal 2017 arrivato per la seconda volta nella storia che proietta l'Italia tra le 20 formazioni ancora in corsa per un apposto nella manifestazione iridata non sarà facile, anzi, sarà difficilissimo ma per una nazionale reduce da un cambio di guida tecnica che ritrovava il campo in gara ufficiale dopo un anno e mezzo era fondamentale battere un colpo, rispondere presente dimostrare prima di tutto a se stessa di esserci ecco, l'Italia lo ha fatto quando contava ha battuto il Kosovo che nell'ultimo precedente inamichevole invece si era imposto e ha dimostrato, pur con tanti aspetti e sfaccettature da migliorare coesione e unità di intenti si è anche misurata con i suoi limiti l'Italia ma serviva a vincere e lo ha fatto anche questa è una dote merito allora alle ragazze di Liliana Ivaci la prima a dirsi felice nel dopogara sì, ma anche consapevole del tanto lavoro da portare avanti e della necessità di misurarsi con un livello sempre più alto passaggio obbligato per crescere lo ha dimostrato la partita di domenica contro l'Austria 37-22 senza appello e in quest'ottica un nuovo e prestigioso banco di prova sarà rappresentato proprio dalla seconda fase il sorteggio ha detto Ungheria fresca di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo decima agli ultimi europei e in generale tra i movimenti più evoluti e competitivi della Palamaro internazionale sarà un Davide contro Golia inutile nascondersi ma l'Italia che a giugno avrà poi un altro appuntamento da non fallire con le prequalificazioni europee deve ripartire dai suoi punti di forza giocatrici unite organico compatto giovani emergenti tutto riassunto negli abbracci e nelle lacrime di gioia del dopo Kosovo ecco da lì si riparte da lì si guarda al futuro il bilancio di questi due giorni di queste due partite in tutto alla fine è positivo il nostro obiettivo era qualificarsi e la siamo riusciti vincendo contro Kosovo questo non vorrei dimenticare la felicità di Evo sicuramente playoff ad aprile sarà una partita molto impegnativa come sapete dobbiamo incontrare la gente le squadre di alto livello però a noi servirà sempre per prepararsi per prequalificazioni europee da questo stage da queste due partite posso portare solo cose positive vorrei portare solo cose positive e su quelle negative lavorare negative in senso di gioco non in senso di comportamenti voglio ringraziare a tutte le ragazze perché sono state brave hanno lavorato cercheremo di migliorare ogni giorno perché poi poter qualcosa fare in più in questo campo internazionale un bellissimo abbraccio proprio a testimonianza dell'importanza della partita della posta in palio della sfida insomma di tutto quello che in qualche modo abbiamo avuto modo di raccontare anche in diretta attraverso Sky Sport Arena ecco Matteo però è vero che non si è giocato per 585 giorni però ora comincia un programma fittissimo che vede proprio la nazionale femminile protagonista tra qualificazioni mondiali ed europei si giocherà moltissimo sì di fatto tutti i mesi da qui fino alla fine della stagione praticamente perché intanto vediamo quello che è successo subito dopo il giorno dopo la qualificazione dell'Italia ai play-off perché le qualificazioni mondiali proseguono ci saranno i play-off appunto che si giocheranno con gara di andata e ritorno tra il 16 ed il 21 di aprile le date sono da individuare andata 16 o 17 ritorno 20 o 21 e l'Italia ritrova la squadra con cui aveva giocato precedentemente la sua ultima partita prima del lockdown non è propriamente un piacevolissimo che incontro decisamente no ci sarà l'Ungheria infatti anche se bisogna dire che tendenzialmente in quel lotto di squadre pescare una qualunque voleva dire pescare una super avversaria questo è sicuro e sì affronteremo l'Ungheria in andata e ritorno e poi non è finita perché ci saranno le prequalificazioni il primo turno questo appuntamento questo secondo forse anche più importante dal punto di vista proprio dell'impegno della squadra delle prospettive della stessa indubbiamente perché se accedere ai playoff è già il primo gradino ed è giocare i playoff è già chiamiamolo premio tra virgolette anche se poi nello sport a questi livelli non si può mai parlare di premio bisogna sempre giocarsela al tempo stesso le prequalificazioni sono il primo turno di qualificazione che dovrebbe riportarci agli europei del 2022 che dovrebbe riportarci dove eravamo invece nelle qualificazioni precedenti ovvero direttamente al secondo turno qui affronteremo tra il 31 maggio ed il 6 giugno la Grecia la Bosnia-Herzegomina e la Lettonia in sede unica presumibilmente in Grecia la Grecia ha ottenuto il diritto di ospitare questo girone aspettiamo la conferma naturalmente qualora non dovesse arrivare la conferma ma una rinuncia da parte della Grecia si giocherebbe in Italia e la vincente di questo girone passa soltanto la prima accede proprio là in quello che stiamo vedendo e in particolare nel gruppo 3 il sorteggio c'è stato oggi a Vienna nella sede della Federazione Europea e affronta anche lì delle squadre di altissimo livello l'Olanda che in questo momento è campione del mondo in carica la Germania settima agli ultimi campionati europei e la Bielorussia e dunque insomma vari step da superare possibilmente c'è da un ostacolo quasi insomma montabile rappresentato dall'Ungheria nella parte di qualificazione ai mondiali ma come giustamente si sottolineava sono partite anche quelle da giocare perché possono dare sicuramente input e entusiasmo voglia a questo gruppo lo ricordiamo sempre molto giovane e poi il turno di qualificazione al secondo turno degli europei in Grecia contro Grecia Bosnia Zegomina e Lettonia che sono decisamente più alla portata si giocherà in Grecia sicuramente il fattore casa potrebbe essere prendere un po' l'ago della bilancia e passa solo una squadra un passo per volta intanto era di fondamentale importanza centrare questo risultato l'aver centrato è un dato da rimarcare a proposito di gare di qualificazione perché non dimentichiamo che in estate noi saremmo spettatori ma si discuteranno a Tokyo le Olimpiadi e c'era grande attesa anche per capire quali squadre quali nazionali accedono alla fase finale si completavano i tornei di qualificazione per appunto andare a chiudere l'otto delle 12 qualificate nel torneo maschile e in quello femminile ci sono state anche diverse sorprese per la verità perché ad esempio la prossima versata dell'Italia l'Ungheria femminile torna in un'Olimpiade dove mancava dal 2008 è riuscita a qualificarsi ospitando il torneo in casa stiamo vedendo alcune delle immagini proprio della qualificazione dell'Ungheria e anche del Portogallo che invece nel torneo maschile è riuscito a piazzare il proprio nome e a portarsi avanti anche nel nome lo possiamo ricordare di Alfredo Quintana il portiere che è scomparso e che ha recitato un ruolo chiave nella crescita della palla a mano portoghese a livello nazionale in questi anni e quasi un segnale dall'alto per il Portogallo che ha eliminato addirittura la Croazia che invece aveva saltato una sola edizione dei giochi olimpici da quando esiste come nazione aveva vinto due ori e aveva sempre chiuso tra le prime cinque posizioni e invece non giocherà le prossime Olimpiadi aria di burrasca nella vicina Croazia ma ad averne di questi problemi Matteo ritorniamo nel nostro orticello nazionale perché dicevamo che esaurita la parentesi azzurra ritorna il massimo campionato femminile Serie A Beretta grande equilibrio in testa e in coda vediamo il servizio e poi approfondiamo se i rinvii continuano a complicare il quadro della Serie A Beretta femminile è pur vero che calendario alla mano le prossime due settimane sembrano destinate a dire molto se non quasi tutto dei destini dell'alta classifica e della zona playoff in particolare molto ruota attorno alla Iomi Salerno che tra 27 marzo e 6 aprile giocherà in sequenza tre scontri diretti mica da ridere la squadra di Avram a capolista con 33 punti affronterà nell'ordine e in un vero e proprio tour de force il Brixen su tiro al sabato la C Lifestyle Erich nel recupero del 30 marzo e il 6 aprile in un altro recupero di fuoco la Mechanics Sistema Derso molto forse tutto come detto passa per questo trittico di impegni delle campane nel frattempo archiviata la positiva parentesi della nazionale nel fine settimana si torna in capo per la 24esima giornata in coda si rivede la Santa Rally Cingoli situazione complessa per le marchigiane che dovranno recuperare cinque partite che tornano in capo quasi un mese dopo l'ultimo impegno sbattendo subito con una sfida salvezza sul campo di Leno partita non semplice ma se la squadra di Anaia coltiva l'ambizione di ricucire lo strappo con la decima posizione non può concedersi passi falsi nel dentro fuori anche perché subito sopra potrebbe accadere di tutto come ad esempio che la Cellini Padova possa allungare ancora la sua striscia positiva fin qui di due vittorie pesantissime contro Nuoro e Cassano Magnago le Padovane nel segno delle azzure giocappe di Ghiarrua hanno messo un piede fuori dalla zona retrocessione e ora fanno visita alle guerriere malo in una partita che si preannuncia combattutissima invischiata nei bassi fondi anche Cassano Magnago ha più tre da Leno e dalle posizioni più roventi della classifica ma l'impegno delle Amaranto non è dei più semplici trasferta sul campo di Erice intenzionata da par suo quanto prima a chiudere il discorso quarto posto turno è molto importante poi al turno che ci attende nel fine settimana si sommeranno i tanti recuperi giustamente sottolineavi l'importanza della sfida in programma sabato alla Palapalumbo la Iomi Salerno che ospita il Brixen sul Tirol sono le due squadre che guidano la classifica Brixen sul Tirol che arriva senza una pedina di fondamentale importanza Sofia Ghirardi che in caso fortuito si è infortunata proprio durante lo stage azzurro ed è una giocatrice che ha nelle mani più o meno il 30% dei gol complessivi di Bressanone quest'anno manca anche Hilbert peraltro quella è un'altra assenza pesante e quindi Bressanone in questo momento è un po' una leonessa ferita probabilmente questo è l'unico vero elemento su cui Nessing potrà costruire la partita a Salerno sull'orgoglio sulla voglia di stare là in alto perché la sua squadra è aggrappata comunque alla detta il campionato comunque è sempre molto interessante come ci mostra anche la classifica in testa come in coda con diciamo sì l'elemento di differenzazione rispetto alla serie A beretta maschile che in serie A femminile ci saranno i playoff scudetto e questo determinerà sicuramente un rimescolamento delle forze in campo sì e stiamo vedendo la classifica con comunque una differenza abbastanza netta tra il quarto ed il quinto posto è vero che Pontina nelle ultime settimane si è un po' avvicinata ma comunque Erice ha ancora abbastanza chance per chiudere il discorso in coda si combatte certo nella serie A beretta femminile è ancora più impattante rispetto agli uomini il fattore covid perché sono davvero tante le partite da recuperare per tutte le squadre quindi la classifica è davvero frammentata in questo senso assolutamente sì staremo a vedere importante insomma tener duro in questa fase decisiva della stagione abbiamo soltanto da ricordare un importante elemento di novità perché spesso proprio questa federazione ha orientato gran parte dei suoi sforzi in queste due direzioni da una parte la comunicazione appunto ne stiamo offrendo un esempio ma dall'altra parte la formazione dei tecnici sono partiti corsi di formazione anche con presenze di assoluto spessore internazionale questo chiaramente è rivolto a chi già opera nel settore ma un elemento di grande novità anche di prospettiva è l'inserimento della palla a mano nella offerta agli insegnanti di educazione fisica esattamente facciamoci aiutare dalle immagini così vediamo il nostro sito con la notizia ufficiale che ha riguardato appunto l'inserimento della palla a mano nella piattaforma SOFIA che è la piattaforma del MIUR del Ministero dell'Istruzione e di Sport e Salute che hanno appunto certificato l'inserimento di un insegnamento di un corso di avviamento alla palla a mano per gli insegnanti di educazione fisica e di scienze motorie e quindi potranno appunto scegliere la palla a mano come corso di formazione da seguire da approfondire con quattro lezioni già pronte di approfondimento già calendarizzate a maggio e quindi è una cosa importante perché di fatto tutti gli insegnanti in Italia potranno scegliere la palla a mano come disciplina da approfondire e quindi si arricchisce notevolmente la proposta formativa e da questo punto di vista si salda anche un po' un conto con quello che è successo negli ultimi anni quando la palla a mano era un po' scomparsa dai circuiti scolastici questo è sicuramente un elemento molto importante i cui benefici poi saranno valutati soprattutto in prospettiva è il caso di dire più palla a mano per tutti perché poi alla fine questo è il senso dell'iniziativa ed è tutto per oggi Matteo grazie vogliamo soltanto ricordare gli appuntamenti tantissimi anche in questo caso dicevamo formazione e comunicazione questo è un caso fa la mano sui level sports nel fine settimana dove si giocano le gare sia sabato che domenica della serie a beretta maschile e femminile poi come abbiamo visto prima mercoledì su Sky Sport Arena alle 18.45 c'è Pig Zegget Kiel ottavo di finale d'andata della Champions bene è tutto è tutto per questo numero grazie ancora a Matteo Aldamonte grazie e a Sabrina Alessio al coordinamento grazie per la cortesia attenzione appuntamento alla prossima settimana arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti